In questo sprint finale di Pillole di Sport, due storie che, come vi avevo chiesto, a maggioranza avete scelto voi, indicando due discipline di squadra, meravigliosamente di squadra. La prima, oggi, la palla a nuoto, che proverò a omaggiare attraverso il racconto di due partite leggendarie della sua storia olimpica. La prima partita, 6 dicembre 1956, giochi olimpici di Melbourne, la partita è fra Ungheria e Unione Sovietica. Poche settimane prima, novembre 1956, a Budapest è stata sedata una rivolta popolare contro il regime sovietico. Mosca ha mandato i carri armati a Budapest per portare al potere Janos Kadar, gradito al regime. La squadra ungherese, campione olimpica, si sta preparando per Melbourne, viene portata in ritiro in montagna. Non c'è neanche una piscina in quel posto, quei ragazzi non possono neanche allenarsi in acqua. Vengono tenuti all'oscuro di tutto, scopriranno tutto a Melbourne e lì decideranno di dedicare la loro prestazione al popolo magiaro. Quale occasione migliore della partita contro l'Unione Sovietica, che finirà 4-0 per l'Ungheria, ma passerà la storia come il bagno di sangue di Melbourne, perché pochi minuti prima della fine, il sovietico Prokopov, dopo una partita fatta di episodi di violenza, colpisce con un violentissimo pugno Erwin Zador, ungherese autore del terzo gol dell'Ungheria, procurandoli una ferita vastissima al viso che letteralmente colorerà di sangue la piscina. La gara verrà interrotta, il pubblico tenterà di aggredire i sovietici che avranno salvati dalla polizia e poi l'Ungheria dedicherà la sua medaglia d'oro vinta contro la Jugoslavia al popolo magiaro. Salto nello spazio e nel tempo, 1992, giochi di Barcellona, questa volta siamo noi i protagonisti, i nostri azzurri. La finale è Italia-Spagna, ma per la Spagna è quasi una passeggiata, la festa è già pronta, ci sono anche i reali in tribuna pronti a celebrare quell'enorme successo dei giochi olimpici fatti in casa. Beh, non va esattamente così, la nostra squadra lotta e in una partita epica che non finisce mai servono sei tempi supplementari. A 32 secondi dalla fine l'Italia trova il gol del vantaggio, ma non è ancora finita. A 7 secondi dalla fine la palla arriva a Manele Stiarte, il Maradona o il Michael Jordan della palla nuoto che trova un barco e tira, colpisce la traversa. Io ho sentito raccontare quella finale proprio da Manele Stiarte e ho capito una volta di più di quanto lo sport insegna a vincere, ma soprattutto insegna a perdere.